Musica Proseguono fino alle ore 18 di oggi le prove di carico all'impalcato del cavalcavia di Borgo San Giovanni al cavalcaferrovia e al ponte grande che attraversa il canale Fossetta Tecnici e operai sono nel lavoro per i testi e rilievo dei dati a sovrintendere le operazioni al dirigente del settore lavori pubblici del comune, ingegner Stefano Penzo Le modifiche e la viabilità sono regolate dagli agenti della polizia locale di Chioggia che sono disposti a ogni varco da ridotto Madonna a Borgo San Giovanni ai quartieri adiacenti il cavalcavia è stato istituito il divieto di transito veicolare alternativamente nella carreggiata sud con deviazione per i veicoli provenienti dalla Romea in entrambe le direzioni di marcia coloro che sono diretti a Borgo San Giovanni vengono convogliati lungo le vie maestri del lavoro e turati chi dovrà raggiungere Chioggia deve passare per via maestri del lavoro e via Naccari mentre chi è destinato sottomarina viene fatto passare attraverso Chioggia viceversa nella carreggiata nord i veicoli provenienti dal ridotto Madonna diretti a Chioggia devono servirsi di strada Madonna Marina poi via Le Padova e via Le Veneto lo stesso chi deve dirigersi a Borgo San Giovanni mentre chi ha bisogno di imboccare la strada a Romea può farlo attraverso via Padremiglio Venturini a Brondolo anche gli autobus di arrivo a Veneto che conducono a Venezia vengono deviati lungo via maestri del lavoro e via Turati e limitati a Chioggia in entrambe le direzioni con sospensione della tratta fra Sottomarina e Centro Storico oltre a tre fermate di Borgo San Giovanni fino alle 18 le corse previste in partenza da Sottomarina partiranno invece da Campo Marconi a Chioggia ancora ressa i vaporetti di linea 11 tra Chioggia e Pellestrina anche nelle scorse ore a battello esaurito oltre la capienza consentita in queste settimane non pochi hanno cercato di scavalcare la sbarra fino all'intervento dei carabinieri solo la buona volontà di qualche turista che ha consentito a rimanere a terra e attendere la prossima corsa per lasciare il posto a chi tornava dal lavoro ha portato la situazione alla calma ma non può essere questa la soluzione sbotta Danny Carella presidente della Municipalità di Lido Pellestrina in videoconferenza con il network azzurra la situazione è drammatica e lo sarà ancora più del lunedì con l'apertura di bar e ristoranti temo una catastrofe se non si trovano soluzioni urgenti il presidente Carella ha più volte avanzato all'azienda e alla città metropolitana l'esigenza di un potenziamento delle corse di navigazione con il ripristino dell'orario pre-covid anche per i vaporetti la linea 11 non consente alternativa al battello continua Carella e con forti decurtazioni la fascia notturna scoperta una sola corsa all'ora nelle altre fasi della giornata è logico che si acquiscono i malesseri in specie delle fasce orarie in cui si muove il personale e il socio sanitario di servizio agli alberoni e a Venezia vanno rafforzate con un vaporetto di supporto o tornare chiaramente al vaporetto ogni mezz'ora le difficoltà di ACTV sono note a tutti ma non può pagarne le spese chi torna dopo 8 ore di lavoro duro e pesante un'altra soluzione avanzata della Municipalità è consentire, come in molti supermercati la priorità dell'imbarco a chi è in grado di esibire un tesserino sanitario di medico, di infermiere o di operatore ma non abbiamo ottenuto risposte neanche a questo commenta sconsolato il Presidente eppure è evidente che se il limite è di 90 posti per ogni mezzo non possono essere lasciati a terra i lavoratori di servizi necessari come quegli ospedalieri appellarsi alla benevolenza del singolo turista e chiedergli di aspettare un'ora non è proprio la soluzione il combinato disposto del decreto legge emanato la scorsa notte dal governo e del piano regionale approvato per il Veneto d'intesa con Palazzo Chigi disegna ciò che sarà possibile fare nella regione dal lunedì 18 maggio all'interno di un quadro generale valido per tutta Italia sarà possibile spostarsi liberamente all'interno del territorio regionale naturalmente con guanti e mascherina ma senza più l'obbligo dell'autocertificazione che rimane in vigore per uscire dalla regione per motivi di lavoro o di salute fino al 3 giugno data in cui sarà possibile farlo senza non essendo più obbligatorio il possesso e l'ostensione del modulo sarà possibile far visita anche agli amici ai colleghi e ai conoscenti oltre che ai parenti rimane ovviamente valido il principio della distanza di un metro e dei dispositivi di protezione individuale restano vietate le riunioni e le feste in privato e in pubblico per bar e ristoranti vince la linea dei presidenti delle regioni Veneto Luca Zaia ed Emilia Romagna Stefano Bonaccini le distanze fra i tavoli saranno di un metro fra le sedie di ogni cliente anche meno per i conviventi non sarà possibile sostare all'interno nell'attesa sono vietati i menù a buffet al banco e il ristoratore dovrà conservare per 14 giorni la lista delle prenotazioni le palestre e le piscine tenderanno il 25 maggio mentre musei, gallerie e mostre d'arte adotteranno ripartenze scaglionate struttura per struttura secondo un piano autonomo e senza visite di gruppo la prossima settimana per la precisione mercoledì 20, venerdì 22 e martedì 26 maggio avranno luogo tre sessioni del Consiglio Comunale di Chioggia tutte in videoconferenza dalle ore 14.30 la registrazione delle sedute sarà messa in rete nelle ore successive ognuna di esse nel sito Digital for Democracy tra gli argomenti della prima assemblea i contributi per l'emergenza da Covid e l'adeguamento del secondo ponte che dovrà attraversare il fiume Brenta allo scopo di impedire la risalita del cuneo salino con formazione di un invaso a monte venerdì 22 maggio il Consiglio Comunale si occuperà invece degli ordini del giorno presentati dalle opposizioni dall'attivazione degli orti urbani e gli interventi previsti nel lungomare il Consiglio Comunale di martedì 26 verterà su ulteriori mozioni come la fermata del bus in Campo Marconi la pista ciclabile da estender a Borgo San Giovanni il bonus facciate il futuro dell'ex colonia Turatti l'escavo dei canali navigabili la casa di riposo e il riconoscimento del ruolo dei comitati di frazione all'interno dello statuto cittadino dopo lo stop momentaneo dovuto all'impossibilità di utilizzo della sala consigliare con numeri elevati di persone spiega il Presidente del Consiglio Comunale Andrew Bullo l'ente ha provveduto ad attrezzarsi per poter svolgere le sedute in videoconferenza dando la possibilità anche a quei consiglieri che non possono collegarsi dalla propria abitazione di utilizzare specifiche postazioni all'interno del palazzo municipale i tre consigli avranno luogo in data ravvicinata allo scopo di evadere prima possibile tutti i provvedimenti e gli ordini del giorno fermi da tempo domani domenica 17 maggio è l'ultimo giorno festivo in cui la messa sarà celebrata senza la presenza dei fedeli all'interno delle chiese gli edifici sacri già si stanno preparando alla ripartenza di lunedì quando i fedeli saranno messi a partecipare alle funzioni il vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo ha stilato un lungo elenco di disposizioni per rendere possibile la celebrazione rispettando le nuove regole ogni chiesa a responsabilità del parroco stabilisce il numero massimo di posti disponibili segnalati tramite cartello o altro segno come i nastri legati al banco o alla sedia l'accesso alla celebrazione regolato da volontari o collaboratori si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento distinguendo le porte di entrata da quelle di uscita con accessi e postazioni agevolate per le persone con disabilità le offerte saranno raccolte in appositi contenitori alla porta mentre viene lasciata la valutazione dei sacerdoti la possibilità di incrementare qualche celebrazione nel Vangelo Domenicale anche indifferita nei giorni successivi lo stesso vale per la chance di celebrare dignitosamente all'aperto la funzione i canti saranno accompagnati dall'organista senza il coro o da un solista senza libretti e i banchi per la distribuzione dell'eucaristia il celebrante indosserà la mascherina e passerà per i corridoi centrali e laterali porgendo la comunione a chi allunga la mano con guanto e mascherina a debita distanza e senza toccare la mano stessa del fedele viene concessa anche l'opportunità che qualche familiare tornando dalla celebrazione possa portare la comunione a chi è fermo in casa per età o malattia le disposizioni si applicano anche alle celebrazioni diverse da quella eucaristica come il battesimo il matrimonio l'unzione degli infermi a chi è Grazie a tutti.